bella a tutti ragazzi sono da Mirko bentornati su gameplay channel e su northern lights allora ragazzi quest'oggi vi porto questo nuovo survival diciamo invernale perché dovremmo ovviamente combattere contro il freddo come del resto potete già vedere dalla grafica e voglio ringraziare assolutamente gli sviluppatori per avermelo mandato io lo sto aprendo con voi devo dire che la prima cosa che mi è piaciuta tantissimo è la musica veramente veramente bella questa musica dell'inizio davvero diciamo così evocativa soprattutto guardando lo scenario che abbiamo quindi lo proviamo quest'oggi chissà che non sia una gran bella scoperta speriamolo ragazzi speriamo allora giocatore singolo abbiamo come modalità abbiamo la sopravvivenza ok oppure abbiamo il multigiocatore che sarà diciamo sbloccato prossimamente allora io metterei esploratore come difficoltà ok perfetto eccoci qua 13 settembre siberia settentrionale e col caldo che fa in sti giorni ragazzi fare un gioco in siberia direi che ci rinfresca un attimino la mia testa che è successo ok tra l'altro tutto in italiano cosa assolutamente apprezzabile ok introduzione barra della salute perfetto rappresenta ovviamente la nostra condizione fisica dobbiamo evitare pericoli come animali selvatici altezze dobbiamo prenderci cura dei nostri bisogni primari quindi penso mangiare bere eccetera trovi la barra della salute in basso sinistra sullo schermo e va bene fin qua la vediamo abbiamo anche un cervello cioè nel senso l'icona del cervello che abbiamo un cervello ovviamente però nel senso abbiamo l'icona del cervello che penso significhi la sanità mentale scopriamo adesso dato che mi sono girato e vedo questo relitto di ricottero che siamo precipitati in elicottero da quanto posso insomma immaginare sì direi che siamo precipitati allora con la t abbiamo il nostro orologio perfetto con la c abbiamo la bussola benissimo quindi dovremmo utilizzare mappa e bussola va bene quindi premendo tenendo premuto la c abbiamo la mappa cioè la bussola scusate con la m abbiamo la nostra mappa quindi dovremmo anche orientarci sulla base appunto della bussola e questo mi piace molto lo zaino e quindi credo il sistema di crafting si da quello che vedo è molto simile a grinell da quanto mi posso ricordare quindi ok è un qualcosa diciamo che siamo già abituati a vedere il sasso non lo posso prendere no pare di no va bene intanto seguiamo le tracce di sangue vediamo cosa ci dice il tutorial ci sono tracce di sangue ovunque alexei starà bene devo scoprirlo ecco l'unica cosa che mettere le scritte bianche su un gioco con un'ambientazione totalmente innevata ecco mi permetto di dire da parte degli sviluppatori non è stata proprio una scelta intelligentissima più che altro perché i sottotitoli non si leggono una cefola di nulla ma io non posso prendere più niente qua no per il momento no non so se sia per cano ok la flora ok quindi possiamo trovare erbe insomma piante funghi bacche eccetera eccetera va bene raccogliamo la pianta che al momento è sconosciuta quindi anche qua abbiamo similitudini con grinell ok accetto coltello necessario abbiamo un volatile morto va bene abbiamo altre tracce di sangue ok e vanno da questo lato ok intanto cerco di capire se posso raccata qualcosa che abbiamo bacche sconosciute dovremmo poi capire se sono commestibili o meno là c'è un cerbiato un cerbiato dovrebbe essere allora andiamo su di qua lo troveremo prima o poi sto a scalare tutta la montagna vabbè io continuo ad andare dritto eh ah nella grotta è andato che mi sa che si è rifugiato nella grotta ok va bene possiamo saltare ok altre tracce di sangue e andranno credo qua dentro no sì direi di sì sì non è che mi fidi molto entrare a entrare qua in sta caverna eh c'è una luce posso raccoglierla no eh cos'è qualcosa non capisco che cacchio è ah no che era no è un uomo sì ah è un cadavere porca miseria Alexei Alexei hai fatto una brutta fine è morto eh sì è morto sì cadavere raccogli inventario ok va bene va bene quindi possiamo aprire il nostro inventario abbiamo una lattina riciclata la resina piede quindi aveva solo una lattina riciclata praticamente abbiamo un rametto e abbiamo qua delle bacche e la pianta eh esplora la grotta ok sanità mentale esatto quindi anche la sanità mentale presa assolutamente da eh grinella che lì era eh il nostro incubo peggiore la sanità mentale perché poi il tizio quando scendeva troppo inizia ad avere gli incubi e non si capiva più un cacchio eh quindi non so se qua sarà la stessa cosa ma comunque la sanità ce l'abbiamo ok qua la bussola con control ci abbassiamo madonna qua che è quanto cacchio lunga sta grotta ragazzi però mi sta intrigando eh devo dire che mi sta intrigando parecchio mi sta intrigando non poco anche perché vorrei capire mo' come ce ne usciamo da sto posto ok e ma la grotta dice esplora la grotta ma è finita la grotta o devo esplorare perché la grotta ormai è finita non capisco se devo andare di qua o eh o devo fare che cosa boh provo a andare un pezzo di qua ma non credo a ispezionare no ok c'è una località nelle vicinanze abbiamo un binocolo ok ok quindi con la v abbiamo il binocolo e sì ok eh sì perfetto l'accampamento di ricerca ah ok quindi noi dovevamo indagare sull'accampamento di ricerca ok che adesso l'abbiamo trovato col binocolo in automatico occhio all'altezza ok l'abbiamo eh segnalato e quindi adesso ci possiamo andare tranquillamente 237 metri dai tanto Alexei è schiattato quindi lo lasciamo lì dobbiamo trovare indizi ok vedo generatori e va bene eh qua abbiamo dei depositi eh no ah no 0 di 5 ok credo 0 di 5 sì non credo che ci sia nulla no non penso deposito usa no li posso usare io come casse ma non posso fare nient'altro eh boh i generatori qua mi pare di capire che non vanno qua dietro che c'è niente ok intanto prendo cose eh vediamo vediamo eh boh devo esplorare il il dentro diciamo intanto i rametti di piglio ste bombole no no ste bombole dire di no ok allora esploriamo il dentro c'è nessuno salve di eh allora uh abbiamo trovato della pasta ottimo qua abbiamo trovato eh non del pesce cos'è sardine roba roba simile eh sta mappa non la posso prendere un cafferino cosa ho preso ah caffè solubile ho preso veramente il caffè ragazzi scherzavo io invece l'ho preso veramente ma il fornelletto qua una cosa no non posso usare nulla no eh la stufetta credo di no perché non c'è corrente quindi niente va bene va bene allora qua posso salire no vediamo cosa posso fare qua eh tac c'è una pentola ci può tornare assolutamente utile una sigarettina no eh computer oh non funziona devo controllare i cavi sì che abbiamo già visto che fanno scintille abbastanza preoccupanti parecchio preoccupanti devo dire e tra l'altro noto che anche la mia salute sta scendendo quindi è un bel casino è spezzato e non c'è modo di ripararlo eh no eh mo ah no adesso me la fai raccogliere ok ok mi ha fatto raccogliere adesso la mappa prima non me la faceva prendere ok mysterious woods ok e mo dovrò capire con la mappa dove devo andare allora quindi devo andare fondamentalmente a nord est in linea di massima quindi prendiamo la c e vediamo di andare più o meno a nord est che dovrebbe essere circa qua giusto in teoria sì in teoria dovrebbe essere verso nord est corretto sì allora dammi la bussola più così a dire la verità ok andiamo su di qua andiamo vabbè ragazzi proviamo andare un attimo in questo posto e vediamo che cosa troviamo uh aspetta che ci sono un po di funghi da raccogliere pietre le prendiamo possono sempre servire fibra qua ok e sì quindi premo la t con l'orologio ah così vedo le statistiche eccole qua stile oddio come che si chiamava quel gioco delle isole non mi ricordo non mi ricordo però finalmente adesso ci dà come nuova missione quella di costruire un'ascia o benissimo io questo aspettavo aspettavo assolutamente questo ci chiede però la corda e ho capito ma se io la corda non la posso fare come la faccio la corda allora entrato il coltello in pietra lo facciamo così almeno ce l'abbiamo possiamo fare la lancia in pietra e mi va bene mi va assolutamente bene però quello che a me serve è la corda e ma mi servono due di stoffa trappano manuale lo costruiamo per accendere il falò ok e devo costruire un'ascia e mi serve una corda sì ho capito ma non posso uccidere io il cervo oh vieni qua vieni qua maledetto schifo vabbè non sono riuscito a pigliarlo senti io provo a togliermi anche a recupera forse devo fare porta corda ok recuperando recuperando mi dà la corda eccola qua ok sì ma io mi sto distruggendo però le cose adesso ho recuperato la corda ok sì però mi sono tolto dei vestiti che erano pressoché indispensabili quindi adesso posso costruire finalmente finalmente l'ascia di pietra e posso quindi ovviamente andare a tagliare la legna va bene quindi vediamo un attimino sugli strumenti ok sul 2 abbiamo la nostra ascia di legna facciamo così ragazzi allora tiriamo giù un albero giusto per vedere un attimino com'è tutto il discorso anche perché sto morendo malissimo nel senso che sto morendo di freddo mi sono anche peraltro avvelenato con quella pianta che ho mangiato ma recupera cosa recupero scusa a wow ammazza i tronchi così perfetto posiziona si lascia un attimo giù il mega tronco cortesemente raccogli altro raccogli recupera distruggi recupera ah e qua ci dà la cor la legna da ardere e la corteccia si è come grinello ok funziona come grinello c'è una risorsa la possiamo poi ulteriormente distruggere per avere altre cose quindi in questo caso la legna da ardere per cui adesso noi possiamo fare tranquillamente il nostro bel fuocherello da campo esattamente quindi costruiamolo beh mettiamo il fuoco ragazzi dai vediamo un attimino di costruire qua e si mettono poi le varie risorse una volta che abbiamo posizionato il progetto perfetto usa dobbiamo usare questo ok lo stoppaccio stoffa credo corteccia interna forse questa a questa gli dovevo mettere perfetto perfetto ok dovevo mettergli la corteccia praticamente lavorata ok o ce l'ho fatta ragazzi finalmente finalmente ce l'ho fatta e come vedete ci stiamo ci stiamo riscaldando ok ok alleluia alleluia quindi stiamo qua ragazzi e riscaldiamoci un attimino attorno al fuoco allora cibo recipiente posso mettere su una 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 padella no acqua space sciogli la neve ok e posso mettere su della pasta a sto punto l'ho messa sì hanno ok sto sciogliendo la neve ancora bene tanto proviamo così a fare una una cucinata veloce ok cibo mettiamo della pasta ok si sto facendo la pasta ragazzi sto facendo una una pasta asciuttina che che spettacolare non abbastanza cotto ok molto bello molto molto bello ragazzi mi sta mi sta veramente piacendo mi sta piacendo un sacco perché appunto è una via di mezzo fra un grinelle da cui ha preso chiaramente tantissimo e e quell'altro che non mi ricordo sempre d'inverno non riesco a ricordarmi qual era allora altro consuma 60 di fame energia calorie perfetto perfetto e adesso devo crearmi il letto di rametti per appunto anna a dormire letto di rametti dovrebbe essere qua perfetto io me lo metto qua vicino al fuogherello così qua vicino al fuogherello almeno siamo a posto ok devo prendere questi buona perfetto così praticamente possiamo dormire ok e la partita è stata anche salvata benissimo ma se io volessi recuperarmi la pentola posso ah sì che posso ok me la posso rimettere qua perfetto perfetto ok così almeno così almeno ce l'abbiamo la legna d'ardere anche me la prendo e il letto ah ok qua sto dormendo perfetto va bene sono le 10 e 35 quindi insomma andare di notte non è che sia proprio l'ideale però quantomeno qualcosina ho recuperato ancora la febbre sto ancora parecchio male però piano piano vedo che passa in automatico per altre cose credo dovremmo diciamo curarci con medicina e quant'altro va bene ragazzi allora facciamo una cosa io ho anche salvato la partita avendo dormito molto bello devo dire molto bello non ha nulla di innovativo perché come abbiamo visto per carità sono tutte cose già viste ma avere una sorta di grinel in siberia devo dire devo dire che mi attira non poco è intrigante anche quantomeno quel pochissimo di storia che abbiamo visto fino adesso però intrigante il fatto che comunque ci sia una storia appunto non sia un solo e semplice survival dove devi sopravvivere e stop ma comunque è una storia hai degli obiettivi da raggiungere questa sicuramente una cosa che per l'appunto in un survival mi fa almeno a me particolarmente estremamente piacere proprio perché hai uno scopo in più da poter andare appunto a perseguire quindi voi fatemi sapere cosa ne pensate lasciando come sempre un sacco un sacco di like condividete commentate iscrivetevi al canale se non siete iscritti iscrivetevi anche al mio canale Twitch lo trattate sotto in descrizione per non perdervi nessuna delle mie prossime like detto questo io vi ringrazio vi saluto ci vi chiamo al prossimo gameplay ciao belli